Ecco l'altro c'è. 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 Ecco l'altro... C'è. 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 a me ci dovrà anche essere, a me ci dovrà anche essere, a me ci vedo che va quantissimo il pioffino, il pioffino contro il pioffino, se faccio subito un 5, lo dovo e non posso più prendere, già un pioffino avrei preso, un pioffino controvoglia, un pioffino a otto, questi vincendo qua tranquillamente, e posso vedere lo pioffino, mi sa che prima il mio la fiducia contro il pioffino, lo so come sta con un po', ma questo in posto lo è contato la Sharpo, ci sono siccome un punto in col nostro, perchecchio a quello che fa gara, c'è da qui, lo sconande ilرفali, come pu' achato, come vuoi la sconeta, qui le zifera tra chi ci metcia contro l'aerata, come sei se dà la metà, qui lo sconesto, a me c'è da qui, un pioffino corno e all'altra, gamma lo scon delもう , non c'è sul lato, 4 a 0, funcione le zifera cappello giulazioneマia, vendendo un paar, masse giulazione Grazie. 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 Vicino al bar. Ok, grazie. Vicino al bar. Ah, è finita? Ok. A 3? 11 a 3. Si, ma c'è stato occupato a 8. Eh, ok. Ma immagino. Però non va, eh. No, vabbè, però il passato è il risultato. Dai, è che è stato 11 a 3. Un bel cubi vuolano, ragazzi. Il lap sarà solo più uno, più due. Non sarà più... Ok, quindi. Andate, eh. Aspetta, vi devo... ... 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